Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Già di lavora, Già di lavora, ma Già di è un grandissimo lavoratore, io a volte vorrei essere solo un quarto lavoratore quanto è lui Che perché mi vetti per le feste, ho intenzione di fare festa, come dice la parola stessa, i momi eh Io pensavo fossi Moschino Cosa? La tua felpa Beh ho scritto i momi in grande Ok ma c'è un orsetto Molto bella questa felpa Molto carina sì Molto, molto bella Lo so Vuoi guardarla meglio? Eh sì Guardarla meglio C'è una collana da 4 il tuo orsetto Sto sorridendo in maniera molto avida ma comunque mia Dov'è la mano è qua Ma che vuol dire? Ma cosa vuol dire? C'è una cosa? Le tengo la mano per sentire? Che cazzo va a dire? Ragazzi siete Siete veramente che di sistema di capelli? Mettoro il cappuccio Siamo tranquilli Risolvo Risolvo molto tranquillamente Sì Vuol dire cose che non dovresti dire Tanto mi senti sei qua dietro quindi non c'è nessun problema Passa la tavoletta quando vai in bagno Grazie Grazie Lo sta facendo adesso Lo sta facendo adesso? Non ho capito Lo sta facendo adesso Non lo sto capendo Ma manco io perché è un po' scatti Non l'ha sentito mi so Quello che abbiamo fatto è Ma vediamo un po' questa Amurant Perché comunque entrambi la seguiamo su Twitch Ce la vediamo là così sempre quasi in cima Ma non è che guardiamo le sue live Anzi poi se vado a vedere il mio watch time Ma non penso di averne tanto Fatto sta che A parte questa premessa Siamo andati sull'OF di Amurant E abbiamo fatto la sub Non c'è niente A me è un amico mio che ha abbonato Bravo Mi fai vedere cosa cazzo c'ha sull'Olafanz Ora sono curioso Perché lei guadagna milioni d'Olafanz Se siamo andati a vedere Ma ho fatto vedere cosa Ho fatto Ma che poi chi ha fatto sta roba? Esatto E' semplicemente un lascia passare Per avere accesso alla possibilità di pagare Altro e avere altre cose Però E ce l'hai? C'è qualcosa di meglio di quello che ci sarebbe? Ci sarebbe C'è un listino prezzi Blowjob Blowjob più squirt Non ti ricordi Dai 20 ai 150 Ah qua Mi ha spento una sigaretta sul polso Ho sbaglio Guarda quanti cuori viola Grazie Grazie Li fanno a te però va bene No li fanno a tutti e due Li fanno a tutti e due Ciao ragazzi Saluto Vi bacio a tutti Vi vedo troppi i cuori viola Vorrei baciarvi tantissimo Ma non posso farlo per questione fisiche C'è il covid C'è il covid Saluto Saluta Basta Basta Oh minchia minchia Anche io sono due ore che salutiamo Va bene ciao Non sono sbronzo Sono un po' brillo Sono molto brillo Però non ho detto cose stupide Credo Basta Cioè quando vengo a Milano mi invidi a fare le live come hai fatto con Giolame Buonissima La quale si può entrare Si si Droga No Si fa festa Senza Usufruire nessun tipo di Di sostanza Stupefacente Steph Gucci giuro che se ti vedo sotto casa potrei farti fermare fisico Te lo dico che l'hai da dove sta Steph Gucci Porco DS Se ti vedo ti spacco la faccia Si Sai che è Steph Gucci? Si Perché lo fai? Vecchissimo si è entrato in una live dove c'ero pure io Ok è successo Non prende Tutto a posto Che succede? Tu c'hai il wifi? No 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 senti senti No No È la mia cover No 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 E' un nemico avrà avvisato Spider Boat? Green Goblin Green Goblin è fortissimo Potentissimo Va bene Prima e dopo Regà sto arrivo in live Sto arrivo in live Sto partì sto partì sto arrivo Non vi preoccupate dai Ma regà se non arrivo in tempo per i 18 capite perché? Perché c'è un cazzo di traffico Sempre Cazzo Ho guardato Ho guardato Ho guardato Ho guardato Io guardavo i gameplay di Ciccio Gamer Ciccio Facciamo un video di Ciccio Facciamo un video di Ciccio Gamer Sono d'accordo ma mi piace molto Ciccio Gamer Ciccio è colo Iure Iure Sono da te più forte in Italia da Ciccio Si Dici che no? Si. 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 Chi è più forte? Ciccio, Ciccio Ma questa canzone è triste? Ciccio… Ciccio Ciccio Erano i Pinguini dattici Sono da te più forte Ciccio o Power? Non so chi sia Ciccio Ciccio è fortissimo, cazzo Fortissimo È veramente... Ma perché ridi? No, no, è una bestia, minchia proprio, costruisce veramente a una velocità. Cosa hai da dire sulle vecchie parziale? Discutibile, molto discutibile come personaggio, però assolutamente. Dice delle cose veramente... Ciao. Andrina Milansky? No, non è vero. C'è 12 anni, dai. 14, eh. Non è consenso sperato. Deve essere una bestia, nel senso. Dai, non so se tu hai visto... Tu non penso che segui il collegio o no, credo. Ok, meglio così. Tu lo segui? Ma in realtà non troppo, però ho visto una puntata l'altro giorno dove... Cioè, proprio... Tu giusti, 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 è vero? È stupida, ok? Per quanto mi riguarda quello che è uscito fuori dalle puntate del collegio è questo. Poi magari non è così nella vita reale, assolutamente. Eh, però quello che è uscito fuori è questo. Ok. E... Tre parole per descrivere Rebe? Ok. Hai il mio live. Posso che prendo il Mac per guardare la chat? Perché altrimenti non posso leggerla. Buonasera a tutti, ragazzi. Non è che prendo uno di cocay e andiamo. Cioè... Teorema di Pitagora! Teorema di Pitagora! Bravo! Andiamo! Scoperta dell'America? Ok, allora se vai bene, vai bene. Vabbè, comunque... Comunque no, un bel ragazzo direi anch'io 9-10. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.